Spesso ormai lo vediamo nelle cose che si succedono, che i problemi dei paesi sul fronte interno vengono risolte addebitando tutto all'Unione Europea e quindi tirando sul muro al Brennero nella campagna elettorale dell'Austria o facendo le cose che abbiamo visto anche in campagna elettorale in Ungheria e negli altri paesi dell'Unione Europea dell'Est e questo ci spinge a dire qual è il punto di equilibrio che dobbiamo ricostruire, qual è il legame che dobbiamo ricostruire tra i nostri paesi qual è il senso di prospettiva che va recuperato perché l'Unione Europea va costruita giorno per giorno, non è una cosa stabile che possiamo lasciare lì pensando di aver raggiunto un risultato, lo vediamo costantemente